Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale, buona giornata a tutti, stamattina dolci anni, anni dolci, sweet years, grandi, grandi, è l'augurio che faccio a tutti quanti voi, a tutti quanti noi. Oggi però è il giorno 89, è l'ottantanovesimo giorno dalla scomparsa di Antonella di Massa, ottantanovesimo giorno, ripetiamo come un mantra quotidianamente questo conteggio, ecco, fino al chiarimento definitivo, ecco. Quindi sono oggi 89 giorni, quindi domani saranno giusto tre mesi. Bene, non è stata mantenuta la promessa innanzitutto di chi l'ha visto, perché nonostante la redazione del programma avesse risposto che nella prossima puntata ci sarà uno spazio, seppur breve, dedicato ad aggiornamenti sul caso, questo aggiornamento non è stato effettuato. Quindi prendiamo ancora atto, ancora una volta, che chi l'ha visto non ne ha parlato, cioè l'unica trasmissione che ne aveva parlato prima, l'unica trasmissione che aveva gli inviati sul campo. Non si sa per quale motivo, tutte le altre tv, tutti gli altri giornalisti non vanno e non sono andate a Ischia come se fosse un campo di battaglia. Ecco, ora, una brevissima riflessione per la giornata di oggi. Quello che mi segnalate maggiormente voi è l'anacronismo del teatrino di quello che sembra un suicidio, cioè un corpo trovato con tre elementi antitetici fra di loro, ovvero sia la busta nera sotto al corpo, il laccio elettrico intorno al collo e la fatidica bottiglia di antigelo fra le mani. Sono tre elementi che riportano a tre tipi antitetici di suicidio, uno per soffocamento ma non è stato utilizzato, e il secondo altrettanto per strozzamento con un laccio non è stato effettuato, e poi l'avvelenamento con l'antigelo che sembra veramente qualcosa di incredibile, perché non è plausibile che una persona si porti in mano per undici giorni questa bottiglia. Bene, ora, c'è pure chi mi sottolinea come, mi evidenzia, come sia, sempre relativamente a quell'antigelo, una cosa molto strana, che per comprare questa bottiglia di antigelo, la Antonella si sottoponga ad un viaggio, cioè da Casamiccio, da Ischia Porto, attraversando anche una zona dove all'epoca c'erano dei lavori stradali, non si capisce perché. Sì, e poi ringrazio l'amica Benedetta, che lavorando in campo ospedalire, ospedalire, ci illustra come l'antigelo a volte sia usato da alcolisti, dice, che lo assumono in piccole dosi, lo comprano in posti diversi, per fare in modo di non essere, come dire, attenzionati. Però, voglio dire, noi non sappiamo sicuramente né che Antonella fosse catalogata come alcolista, ma nemmeno possiamo sapere che fosse avvezza l'assunzione di piccole dosi. Questo uscirà eventualmente dall'autopsia, ma mi rifiuto di credere che ciò possa essere vero. Voi pensate che si scoprisse che c'è un avvelenamento, magari da un mese, di piccole dosi di antigelo, come se fosse un cicchettino, un grappino che uno si beve. Non crederò mai a una cosa del genere, anche in relazione a quell'uscita così frettolosa, diciamo, da casa. Poi Jet Set mi scrive, la sottrazione della macchina, dell'automobile, la leggo come un atto di umiliazione per Antonella. Se non è un atto di umiliazione, poco ci manca. Noi non sappiamo nemmeno a chi fosse intestata. Io ieri ho fatto l'ipotesi che magari era intestata al marito che si è venuto a prendere la sua macchina, ma in tutti i casi è un atto di umiliazione, potrebbe essere un atto di umiliazione, perché una donna sparita da poche ore potrebbe anche avere un dipensamento, qualsiasi cosa, non trova più la macchina. Non c'era sicuramente questa urgenza. Daniela mi scrive, vuoi vedere che anche in questo caso si possa essere una pista economica? Noi non abbiamo elementi. Cara Daniela, noi non ne abbiamo elementi. Perché non si sa niente? In questo caso noi ne parliamo per amur di cronaca, per testimonianza di presenza e di verità. Ma nessuno sa niente. Nessuno sa niente. Però quando tu mi parli di pista economica, io ti posso dire semplicemente che laddove non c'è amore, c'è il denaro. Quasi tutti i casi, quasi tutti i casi, arrivano a un bivio. Quindi o c'è un amore, c'è una passionalità più che altro malata, o ci sono ragioni di interessi. E allora qui si può pensare, chi dice, forse la gestione, le case vacanze. Sono suggestioni anche queste, perché non ne abbiamo contezza. però è questa semplice casalinga. Mi sembra che dover dimenticare i propri spazi per fare la semplice casalinga mi sembra veramente poca. Poca roba. Quindi Luana mi dice, ritornando all'auto, ma Antonella non era ancora una persona cercata, e se fosse ritornata, e se voleva tornare a casa, come avrebbe fatto, è quello che abbiamo detto già poc'anzi. però l'unica cosa che potevo aggiungere è che il, diciamo, il leitmotiv di questa, di questa vicenda è la fretta, è la fretta, se la vogliamo dirle tutta. Lei che esce in fretta, la fretta di prendere, di riprendere questa autovettura, la fretta di cremare il corpo, la fretta di congedare la tv dall'isola, e il silenzio, la fretta di non parlarne più, come se il caso fosse risolto, e non lo è. E non lo è. A parte, a parte di tutte le altre stranezze, come su un'isola non essere capaci di individuare chi fosse quell'altra donna incappucciata che quella mattina del 17 alle 10.30 era stata vista sotto le stesse telecamere di succivo e certamente non poteva essere Antonello. Per cui, possibile che su un'isola non si riesce a sapere nemmeno questo. E ciò fa pensare. Allora, e allora, Anna mi scrive, ma perché non ne parla la famiglia? Voi lo sapete, perché non ne parla la famiglia? Non si sa. Ma soprattutto, quello che io potrei chiedere, non è perché non ne parla la famiglia, potrebbe essere una scelta, una scelta, una scelta, opinabile, per scarità. Ma io dico perché non ne parla nessuno. Qualcuno dice, ah, ma forse per paura, per la maestà, ma di cosa? Paura di cosa? Di cosa c'è da avere paura? Di che cosa? Di sapere la verità? Di sapere come è morta questa donna? E i giornalisti dove stanno? Dove stanno? Ma i giornalisti vanno a Ischia e vengono respinti come quei pirati che una volta andavano sulle navi e quindi vengono respinti come personaggi scomodi? Oppure non ci vanno proprio perché non mandati assolutamente dalle redazioni? Bene. E le semplici casalinghe, soprattutto di Ischia, dove stanno che non si vede, non si sente nulla? Allora non si rimane altro, cari amiche e amici, quello che ci stiamo ripetendo da 89 giorni e che devono attivare i risultati dell'autopsia a momenti, dicono, ma come pure tutti gli altri dati. I dati, ad esempio, dell'ispezione cadaverica semplice che sarebbe importante perché dalla semplice ispezione cadaverica, cioè anche degli indumenti intimi, soprattutto, che la donna indossava, si potrebbe risalire anche a quanto tempo lei fosse lì. non si sa niente. Quello che si sa, certo, i dati certi sono pochissimi, dovuti alle telecamere che lei esce da casa micciola, va a Ischia Porto, compra questo liquido, l'antigelo, va a succhivo, posteggia, poi sembra molto probabilmente che arrivi a panza, sembra, così dicono perlomeno i cani molecolari, poi c'è un vuoto, un vuoto di dieci giorni, un vuoto di dieci giorni, e dopo dieci giorni lei viene ritrovata lì, in quel giardino, come una fotografia, cioè come se si fosse adagiata lì dieci giorni prima, cioè con gli stessi indumenti, mi sembra il caso di Sinovich II, gli stessi indumenti, quella fatidica bottiglia in mano, qualcosa di allucinante, e ce l'ho molto io con questo fatto del liquido antigelo, perché vedete deve avere un significato forte, un significato forte lo deve avere, sia come intenzione di uscita da parte di Antonella, ma sia nelle intenzioni di chi eventualmente ha fatto questa messa in scena, perché quella bottiglia di antigelo o è la firma di un suicidio o è la firma di un omicidio, facendo una messa in scena davvero improbabile, quindi oggi, 89esimo giorno dalla scomparsa di Antonella di massa aspettiamo novità, vi chiedo come sempre la condivisione dovunque, dappertutto vi capiti e grazie mille perché le condivisioni stanno aumentando in maniera esponenziale, solo su YouTube abbiamo superato i 3.000 ieri e negli altri social abbiamo superato i 5.000 non sono grossi numeri ma sono bastevoli per avere considerazione cerchiamo ancora di più di mantenere accesa questa luce di speranza della verità noi non siamo contro non siamo contro siamo a favore siamo a favore della verità grazie un abbraccio a tutti quanti voi